Buona, direi molto molto buona ritrovata. In salita stavo bene però diciamo si è creata un po' quella situazione di corsa dove inizi a fare un po' di tatticismo. Poi ho provato anche ad entrare con Daniel Ossi, siamo arrivati a 15 secondi più o meno, poi dietro hanno chiuso e in quel momento poi abbiamo iniziato a controarolarci ed è finita la corsa. A questo proposito Vincenzo diceva che c'è stata un'incomprensione tra di voi, nel senso che lui quando è rientrato l'ha interpretato come se lui avesse di fatto riportato sotto anche gli altri insomma. Beh in effetti è stato così, nel senso che io con Daniel Ossi ero praticamente ormai nel mirino degli altri e soprattutto in salita sapevo che avrei comunque agganciato il gruppetto. Lui ha preferito diciamo chiudere, forse si sentiva più sicuro così, però alla fine... Ti ha danneggiato? Ma no, ha danneggiato me no, però diciamo che poi l'abbiamo un po' pagato tutti e due, perché comunque ripeto sono quelle situazioni di corsa dove dove comunque c'è tatticismo, tutti i migliori si controllano e in un percorso così dopo 200 chilometri succede come oggi che non conta magari più la condizione ma conta anche appunto il tatticismo. Però è andata così, incomprensioni che capitano, dispiace perché oggi stavamo molto bene sia io che lui e... Potevate forse... E alla fine non abbiamo raccolto niente però è andata così. Grazie. Grazie. Grazie.